Le feste celebrative del quarto centenario della nascita di San Carlo Borromeo hanno avuto una prima solenne manifestazione con l'inaugurazione al Venegono di un monumento al grande santo patrono che istituì il primo seminario diocesano in Milano, presenti il cardinale arcivescovo sua eminenza Schuster, le loro eminenze caccia dominioni e salotti giunti da Roma, numerosissimi alti prelati seminaristi hanno una polla di fedeli.